Allora ragazzi, vi dico una delle cose più belle che ho scoperto a Venezia. Can, in realtà, si chiama Gianni. Cioè... Ma ti posso dire una cosa? Dillo, spiegalo. Perché se no non ci crede nessuno. Quelli che mi amano, mi seguono, ti diranno un sacco di... Non offendo. Sì, offendo. Sanno tutti. Ma l'hai imparato ora, non sapevi, capito? No, io lo sapevo. Io conosco la tanto e lo adoro perché è un grandissimo ragazzo. Però pensavo si chiamasse Can. E' facile, per questo si incazzeranno, capito? Però Gianni è molto più simbatico. E grazie. Non lo sapevo. Gianni è simpatico. Sei simpatico uguale. Però adesso che so che ti chiami Gianni è ancora merito. Non voglio sapere niente. Va bene, tutto ciò, coronato da questa cornice fantastica. E... Gianni. Oh, va bello. Allora, è il spettacolo Venice by Night.